ciao oggi sto provando un'esperienza particolare oggi sono qua con martina che martina di marostica e con me ci siamo conosciute io e martina martina ha prenotato tramite arbnb un'esperienza per costruire una pochette qui insieme a me perché direte voi martina no perché allora ho dato disponibilità un'esperienza con me tramite appunto arbnb dove chi volesse che magari è qui in zona treviso per un soggiorno chi volesse può venire ho un calendario prenotarsi e venire a costruire una pochette scegliendo il cliente può scegliersi i tessuti ne ho centinaia e oggi appunto ho martina che mi sta raccontando della sua vita che mi ha detto l'età che t'adresti a questa ragazzina io pensavo 25 invece ne ha 35 io sono sempre 35 36 35 ecco allora martina ha scelto il tessuto per il davanti della sua pochette poi indietro sono i suoi colori la fodera lei ha tagliato i tessuti poi io sto attaccando la cerniera e adesso stiamo proseguendo tra cucito e ciacchiere tra un po vi mostreremo come come risultato la nostra pochette anzi la sua pochette ciao a dopo ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.